Sub-Zero è riuscito a sconfiggere il primo intruso, Cassie Cage. Ora vediamo chi è il prossimo. È Takeda Takashi, il figlio di Kenshi. Vediamo se Sub-Zero riesce a eliminare anche lui. Bravissimo, Sub-Zero. Sei così intelligente per essere un ninja di ghiaccio. Non hai il potere di prevedere le mie intenzioni, Takashi Takeda. Di certo, Kenshi ti ha insegnato come usare. Mio padre mi ha insegnato molto, Gran Maestro. Lo vedremo. Vi saluto, è tutto. Mettete un mi piace e iscrivetevi al canale se questa video recensione vi è piaciuta. Altri video vi aspettano, sempre in questa modalità storia di Mortal Kombat X.